musica 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 questa è Bettolle questa è Foiano queste sono le canacce musica musica come un lampo di vita musica 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 Ma chi è questo? Salve signore No no non voglio un'idea grazie No sono in fretta signora Prego Dov'è? Mia figlia? No in bagno Bene Allora possiamo arrivare Si andiamo E' una delle peggio posessioni a cui ho mai assistito Dovrò subito intervenire Ma prima E' acqua salta? No o si? Nel nome del Padre Del Figlio Dello Spirito Santo Nel nome di Dio Nostro Signore Esce da questo corpo Zitto! Vada in retro Satana Nel nome di San Giuseppe Maria Di tutti gli amici Di tutti gli santi Libera quest'anno E' una buona Allora Quei ci sono porte Che è ci sono porte Questa è la buona E' una buona Ora fai uscire Satana Gio, che fai? Fammi una mancia Mangio qualcosa dal figlio Ma che cazzo c'è? Che c'è? Sei pronto? No Anch'io Sono strani esseri Cos'è un animale? La rosa è mia No, la volevo io Che capiglia sta merda di bus C'è piena Le vengo? Inizio No, le vengo Inizio io Ti vuoi allenare contro pollo? Lo vuoi battere? Sì Allora devi essere più veloce di lui E come fare? Impara a prendere questo pollo Destro Sinistro Diretto Montante Pizza Cetrioli Brava Sì Sì Inizio a vedere con la stupenda Vai 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 ARIANO Lo vedi questo? Questo è il tuo figlio Non c'è il backstage Hai scelto proprio il mio Però sei stupido Però si te la mi vuole Orgel E' Prendi, che c'è il mio Non è unblock Che c'è il mio Che cosa succede? Il mentale Una della scelta Che c'è il mio Allora, Matteo! E' 30 secondi Dicio, eh! Li stronzi video! Non me la partito con il video! Nooo! E' 18! Imbestito! vai chi c'era come pensi allora che devo fare devi far pinto di essere il cittime che piangi che devo sto maschando no a 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 Grazie a tutti